Nicola Pesaresi, pochi minuti alla sfida con Perugia per il recupero dell'ottava giornata di Superlega, una partita sulla carta difficile per Milano, che partita ti aspetti? Sì, sicuramente una partita difficile contro un avversario di prima qualità e sicuramente sarà una partita complicata, ma dovremo scendere in campo con la giusta aggressività e guardando al nostro campo e cercando di fare le nostre cose al meglio possibile per cercare di mettere la squadra avversaria e fare qualcosa di buono in questo match. Due squadre che arrivano a questa gara con due sconfitte, quindi con entrambe la voglia di ritrovare un riscatto sul campo, Milano dopo aver perso con Piacenza e Perugia dopo aver perso con Monza. Questa è una chiave secondo te di volta, la voglia e la determinazione per non incappare nella seconda sconfitta consecutiva? Sì, può essere un'ulteriore arma per tutte le squadre in quanto ovviamente c'è voglia di riscatto e di rivalza, quindi ci sarà questa cosa in più in entrambe le formazioni. Ripeto, noi guardiamo dal nostro campo e cerchiamo di fare le cose al meglio possibile. Parlando però nel campo dell'altra squadra di Perugia, la vigilia anche Nicola Daldello ha detto che l'elemento importante della gara potrà essere il servizio, quindi i battitori di Perugia sarà importante una grossa prova, una grande prova di risoluzione. Sì, loro hanno dei grandissimi battitori e dei grandi attaccanti, quindi dovremo limitare loro in queste due situazioni e cercare di contrastarli e fare il meglio possibile muro, difesa, controattacco.